Sono d'accordo sul fatto che l'espianto non serva a nulla, dato che il batterio è stato trovato su altre 150 specie, quindi eradicare gli alberi di olivi non porterebbe alla soluzione del problema, quindi su questo sono pienamente d'accordo. Il controllo del vettore e le eradicazioni delle fonti di inoculo nella fascia di contenimento risultano essere le uniche misure necessarie al momento per rallentare l'avanzata del batterio. Antimentalità, datemi, datemi, datemi una identità, cambio, 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 antimentalità, voglio, voglio un'altra possibilità.